Cosa pensi di questa idea? Per essere felici basta seguire queste tre semplici regole. La prima, dobbiamo desiderare quello che già abbiamo. Questo perché se non siamo felici oggi, perché ad esempio desideriamo una Ferrari o un attico in centro, non lo saremo nemmeno domani quando quelle cose, appunto la Ferrari e l'attico in centro, le avremo. Questo perché in quel momento penseremo che per essere davvero felici ci serve ad esempio un elicottero, una villa con piscina, eccetera. Cioè la Ferrari e l'attico in centro non ci basteranno più. La seconda, qualsiasi cosa ci accada dobbiamo sforzarci di pensare bene, questo è esattamente quello che volevo accadesse. Se quello che ci è successo ci sembra nella nostra visione miope e parziale una cosa negativa, dobbiamo invece sforzarci di non pensare cose tipo ma perché è capitato proprio a me, vorrei che non fosse successo, eccetera. Questo perché non possiamo sapere se qualcosa che ci sembra negativo oggi è in realtà una benedizione per la nostra felicità futura. La terza, dobbiamo imporci giornalmente piccole sofferenze. Ad esempio docce fredde, andare a letto presto, alzarci presto, fare intensa attività fisica, mangiare un'insalata quando il nostro cervello ci fa credere che abbiamo bisogno di tre Big Mac e un chilo di patatine fritte, eccetera. Bene, questo è tutto. Se ti va fammi sapere cosa ne pensi. Grazie mille per l'attenzione. Alla prossima! Grazie mille per l'attenzione.